lu lu rispondi al telefono è per te parla rispondi ma cosa fai parli con le ciabatte ma come stai stava rispondendo al telefono con una ciabatta cioè vi dovete assolutamente iscrivere al canale ok mettere like e condividere il video lo scherzo il mio scherzino perché dovete sapere che bubi lui tutte le mattine quando qualcuno lo chiama lui risponde subito al telefono come se fosse già sveglio non so come faccia ha la voce da persona sveglia è incredibile e risponde cioè io al telefono se mi chiamano la mattina non rispondo non ce la faccio cioè deve passare almeno un'ora un'ora e mezza pronta voi cosa fate al mattino volete parlare riuscite a parlare si qua parlo ok dovete cioè voi al mattina rispondete al telefono quando vi chiamano oppure non rispondete io non ce la faccio no assolutamente dai kathy vabbè dai parla con la ciabatta dai 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 sono a peccata sporca ma che cazzo sono aia non te l'ho ottimata nemmeno a di pronta amici ciao bubi ciao a tutti siamo luca e kelly pure amandoci alla follia dicono che siamo una coppia quanto strana probabilmente hanno ragione uuuu